quanto vi è piaciuto lo scorso video sul bot di instagram mi sono arrivati un sacco di messaggi sia su instagram che qui nei commenti tutti a chiedere eventuali aggiornamenti come si fa questo come si fa l'altro oggi andiamo di nuovo ad ampliare le funzionalità e a modificare quindi migliorare il nostro programma e fixando alcuni bug perché è nuovo e non mi conosce io sono daniel benvenuto sul canale di progetto lasciaci un like se ti piace questo video e iscriviti al canale per non perderti le prossime puntate prima di cominciare visto che in questo periodo sono veramente molto occupato tra lo studio la gestione del canale youtube e vari altri impegni come lo sarete poi anche voi in questo periodo facciamo così se arriviamo a 100 like io mi metterò a migliorare aggiungere funzionalità di nuovo a questo bot di instagram e farò una terza puntata quindi ragazzi mi raccomando se volete vedere una prossima puntata pigiate su quel bottone quest'oggi non andrò a programmare in modo da tenere il video un po più corto un po più leggero siccome stiamo alzando il livello del nostro bot sta diventando un pochino più complicato capirlo quindi voglio dedicare più tempo alla spiegazione vi mostrerò tutto il codice vi spiegherò che cosa aggiunto perché l'ho aggiunto e a che cosa serve partiamo dal main siccome molte persone che mi hanno contattato per quanto riguarda il bot diciamo che non se ne intendono molto di programmazione ho voluto creare qualcosa di molto semplice quindi sono andato a creare un menu qui in sostanza come come prima andate ad aggiungere il vostro username e password qua il profilo dal quale volete andare a mettere i like ai follower e ho implementato anche la ricerca tramite tag quindi qui si inserisce un tag va nella pagina dei tag va a scorrere tutte le immagini e mette like qui come la scorsa volta abbiamo il numero totale di immagini quindi start 1 stop 100 significa che le immagini saranno 100 e il bot cercherà di mettere 100 like noi se vogliamo partire dall'immagine 20 arrivare a quella 120 si può fare qui mettiamo 20 e qui mettiamo 120 quindi molto comodo ovviamente qui commentino start deve essere maggiore uguale 1 successivamente ho definito delle modalità di funzionamento quindi la prima lavora sequenzialmente sui follower di un profilo e va a mettere like quindi prende 1 prende 2 prende 3 va avanti così no mentre la seconda lavora in modo random quindi andrà prima al 100 poi all'86 poi al 54 poi al 120 eccetera eccetera in entrambi i casi cercherà sempre di mettere stop meno start like complessivi con la terza modalità andiamo invece a mettere like a delle foto che hanno un certo tag e anche lì utilizzo stop per dirgli quante foto deve mettere like infine la quarta modalità è ancora in sviluppo in sostanza vado a prendere tutti i miei follower ci faccio una lista e guardo quali mi hanno iniziato a seguire quali hanno smesso di seguirmi eccetera eccetera quindi facciamo un po andiamo ad analizzare il nostro profilo questo ancora in modalità di sviluppo se arriviamo a 100 like questa funzionalità ve la mostrerò nel prossimo video in molti mi hanno chiesto di mandare dei messaggi tramite il bot anche questo probabilmente sarà argomento del prossimo video se arriveremo a 100 like passiamo al codice sorgente del nostro bot come sempre questa parte qui è la parte di login che ho spiegato anche nel video precedente se non l'avete visto andatelo a vedere però ho aggiunto una cosa importante quanto è fastidioso inserire sempre il codice di conferma quindi se avete l'autenticazione due fattori quanto è scomodo ogni volta andare a inserire il codice bene per bypassare questo problema andiamo utilizzare i cookies per per i cookies utilizziamo la libreria piccol e in sostanza cosa ho scritto se esistono i cookies i sono un file vedete qui allora creiamo una variabile cookies che va ad aprire i cookies già esistenti e gli va a inserire dentro selenium quindi in sostanza va a inserire i cookie nel nostro browser successivamente come la scorsa volta qui andiamo a fare il login e al termine del click sul login allora se non esistono i cookies quindi se è la prima volta che facciamo il login allora ci sarà da inserire il codice e qui manteniamo il codice che ho scritto la scorsa volta se invece abbiamo già fatto il login un'altra volta quindi abbiamo i cookies allora questa parte qui non viene eseguita e si salta subito a questa qui quindi in sostanza entriamo già su instagram quella parte lì se la andiamo a eseguire ci crea dei problemi in questo modo la isoliamo e la utilizziamo solo quando facciamo il login per la prima volta e tra l'altro tramite questa funzionalità andiamo a risparmiare del tempo perché qui ci sono tre slip da complessivamente 11 secondi e quindi noi risparmiamo 11 secondi in più il tempo che ci mette ad eseguire tutte queste linee di codice quindi veramente tanta roba questa parte qui poi successivamente una volta fatto il login ci serve andare a salvare i cookies perché altrimenti non avremo mai il file del quale prendiamo i cookies quindi tramite piccol.dump e gli passiamo self.driver get cookies quindi prendiamo i cookies dal browser andiamo ad aprire un file cookies pkl e ce li andiamo a scrivere dentro tramite questa riga di codice successivamente work randomly quella che vi ho spiegato all'inizio qui abbiamo un multiplier che ci servirà dopo e praticamente la parte iniziale è uguale quella che vi ho mostrato la scorsa volta perché inserito questi slip run range 3 12 perché in sostanza altrimenti instagram si accorge che è gestito da un bot e instagram non vuole essere gestito da un bot c'è scritto anche nelle linee guida molti di voi potremmo dire vabbè cosa me ne frega se instagram non vuole è praticamente ti butta fuori dal profilo ogni volta ti fa cambiare la password quindi cerchiamo di evitare questa cosa qui no e allora noi da geni cosa facciamo diciamo beh pensiamo come lavora un utente no un utente scorre 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 clicca qui poi esce scorre clicca qui cioè il tempo tra un clic e l'altro è abbastanza randomico cerchiamo di simulare il comportamento dell'utente e più o meno funziona comunque i miglioramenti li vedremo sempre nelle puntate successive però davvero mi sto trovando molto bene a testare questo bot cioè sembra davvero molto funzionante e questa parte qui è fondamentale comunque qui sempre entriamo andiamo a prendere l'area dei follower qui prendiamo l'ht che ci serve per scorrere la lista degli utenti qui prendiamo l'elemento della scroll box poi successivamente while true quindi ciclo all'infinito il numero random lo prendiamo tra start e stop per multiplier in questo modo siccome noi dobbiamo mettere ad esempio 100 like è meglio mettere 100 like ad esempio su 280 persone piuttosto che 100 like su 100 persone perché altrimenti avrebbe più senso lavorare in modo sequenziale invece qui lavoriamo in modo più randomico eventualmente anche per evitare che instagram ci sgamino quindi qui inoltre siccome non vogliamo andare a prendere un utente che abbiamo già preso lo mettiamo in una lista il numero che abbiamo preso tanto gli utenti saranno tutti numerati da 1 a 280 ad esempio quindi lui va a vedere se il numero non è nella lista allora vallo inserire nella lista qui possiamo fare un miglioramento perché alla fine questa lista non la stiamo usando e quindi è una cosa abbastanza stupida utilizzare una lista che effettivamente non stiamo usando quindi facciamo number list punto append di 0 scriviamo rand number uguale a 0 poi scriviamo while rand number not in number list lui continua a generare un numero random quando il numero random non sarà contenuto nella number list in realtà dobbiamo togliere questo not perché se io vado a generare un numero random che già nella lista ne devo generare un altro quindi finché ne genero uno che nella lista continuo a generare quando riusciamo a generare un numero che non è nella lista allora esci aggiungi il numero nella lista e poi andiamo a fare i nostri lavori con i profili instagram qui ho modificato un po di cose perché in sostanza vi ricordate dallo scorso episodio che praticamente quando andava a scorrere gli utenti nella lista degli utenti follower di un profilo non li prendeva tutti e allora cosa ho fatto siccome dipende tutto dagli x pat che sono questi in sostanza ce ne sono di due tipi diversi ho notato quindi facciamo così ovviamente cicliamo all'infinito se lo trovi con questo x pat bene entra nel profilo se non lo trovi prova questo x pat lo trovi bene entra nel profilo altrimenti se proprio proprio va male andiamo a scorrere la lista degli utenti vi giuro che sta funzionando con tutti i profili quindi davvero bene questa parte qui il classico slip run range per dire a instagram che siamo degli utenti e non dei bot successivamente qui cerca di prendere la prima foto dell'utente perché poi gli andiamo a mettere like come prima ci sono dei problemi con gli x pat quindi prima proviamo questo poi proviamo questo se proprio proprio non riesce a prendere l'immagine va avanti no e vi dico che anche questo funziona veramente bene questa parte qui invece funziona sempre bene non ha mai dato problemi quindi la teniamo così cosa succede in sostanza abbiamo la nostra foto c'è il cuoricino per mettere like andiamo a schiacciare proprio quello lì e successivamente scriviamo self punto top top likes più uguale a 1 così andiamo a contare quanti like abbiamo messo finora no e qui ci dice quanti ne abbiamo messi appunto fino ad ora poi solito slip andiamo incrementare n di 1 così che quando n sarà uguale a stop noi terminiamo il processo e poi qui se n diverso da stop si ripete il tutto questo per quanto riguarda il lavoro randomico il lavoro sequenziale è identico è identico tranne che incremento n di 1 quindi qui quando vado a cercare di prendere l'utente non vado a mettere n vado a mettere invece scusate qui invece di mettere un numero random vado a mettere n così prendo i profili in modo sequenziale per il resto è completamente identico anche perché non ha senso fare qualcosa di inventivo diverso perché tanto il lavoro lo svolge già e lo svolge bene quindi passiamo ai like sul tag qui in sostanza come sempre n uguale a 1 andiamo a contare quanti like andiamo a mettere x e y sono due variabili che mi servono successivamente come sempre ci andiamo a dirigere alla pagina del tag specifico che va messo qui infatti qui abbiamo format tag che lo passiamo come parametro poi while true proprio qui andiamo a mettere i parametri x e y in sostanza i tag se vi ricordate come sono fatti sono praticamente messi a griglia no quindi ci sono i post messi a griglia ho notato che ci sono dei problemi quindi non gli puoi scorrere in modo sequenziale 1 2 3 4 5 6 7 8 no non funziona in sostanza è come avere una tabella quindi 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 eccetera eccetera e per questo abbiamo x e y quindi in sostanza questa parte di codice lavora così y parte da 1 e poi va a incrementare x fa 1 2 3 x poi cosa fa 6 uguale a 4 x lo rimette a 1 e va ad incrementare y in questo modo partiamo da y uguale a 2 x uguale a 1 no qui c'è sempre un except che se non riesce a prendere l'immagine lui deve pensare che eventualmente l'immagine si trova più in basso quindi va a scrollare la pagina e prova a cercare l'immagine qui come sempre stessa cosa di prima andiamo a pigiare il bottone del like e se n maggiore di stop finisce il processo infine abbiamo la get follower che questa la devo ancora migliorare quindi ragazzi mi raccomando se volete la puntata successiva 100 like non è neanche una cifra così grossa allora come sempre qui andiamo a dirigerci nel nostro profilo infatti gli passo username che mi sono andato a salvare qua all'inizio no vedete qui self username username rieccoci di nuovo qui sul get follower in sostanza andiamo sempre a cliccare la finestrina dei follower quindi clicchi sul numero ti mostra i follower no e qui iniziamo a prendere la scroll box definire le altezze della scroll box facciamo uno slip di uno se esiste follower txt rimuovilo follower txt conterrà tutti i nomi dei nostri follower in questo modo f uguale open follower punto txt in append se il file non esiste lo crea se il file esiste gli va a concatenare quello che trova però in ogni caso il file non esisterà perché prima appunto lo vado eliminare ed è meglio così è meglio aggiornarlo ogni volta diciamo n max è il numero totale dei nostri follower quindi quello lì lo andrà a prendere dal numero che abbiamo sul nostro profilo successivamente prende n uguale a 1 while true cerca di andare a prendere tutti gli utenti in particolare prende il testo del tag a html dell'utente n quel tag lì ci sarà scritto ad esempio pippo 1234 il nome della persona lui prende il nome lo scrive nel file aspetta 0.5 secondi che non si sa mai che instagram se ne accorga e successivamente se questo non riesce ad eseguirlo quindi si verifica qualche errore l'utente non si trova ad esempio in questa area della finestra lui cerca di scroll scrollare e arrivare fino in fondo in ogni caso questa devo ancora mettere a posto perché ad esempio ci va aggiunto questo qui il secondo trai perché non tutte le volte lo prendo quindi quando arriva n uguale maggiore di n max esce dal ciclo più del file importantissimo e ti dice abbiamo finito siccome questa è una funzione nascosta che ho lasciato nella classe utilizzo l'update follower alla quale aggiungerò altre funzionalità per andare ad eseguire la get follower aprire il file leggerle mostrare tutte le linee io spero che sia stato tutto chiaro qui potete vedere le import che ho fatto per il mio progetto come al solito se vi manca qualcosa qui sotto basta che scrivete pip install ad esempio selenium random piccol in teoria piccol ce l'avete già comunque se vi è piaciuto il video lasciateci un like se volete il prossimo video fate in modo che questo video raggiunga 100 like se avete qualche dubbio scriveteci qui sotto nei commenti e non su instagram mi raccomando iscrivetevi al canale perché altrimenti poi vi dimenticate che noi stiamo portando avanti questa serie di video e poi vi perdete le puntate successive attivate la campanellina così ancora meglio vi arriva la notifica visitate i nostri social iscrivetevi anche su instagram e noi ci vediamo nella puntata successiva ciao 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 ciao